Bene amici, buona serata, stasera Bibo ha deciso di raggiungerci proprio dall'inizio, serata molto speciale, puntata dedicata al mondo dei serial killer con quello che reputo essere davvero il più grande esperto che abbiamo, se non altro nell'ambito europeo, perché ha ricostruito in maniera veramente unica tutto il mondo dei serial killer sostanzialmente nella storia recente. Quindi stasera avremo con noi Ruben De Luca, presenteremo il suo testo dedicato proprio ai serial killer e avremo modo di fare anche delle riflessioni decisamente sensate su quello che è successo a Roma proprio la settimana scorsa con la vicenda che riguarda Gian Davide De Pau, ossia diciamo il presunto killer delle prostitute romane del quartiere Prati. Quindi a tra pochissimo, insieme a me, insieme anche a Bibo, che mi sa che stasera ci resterà con noi tutta la serata e insieme a Ruben De Luca. A tra poco. Amici, buona serata, come dicevamo in anteprima, stasera è davvero una puntata speciale, imperdibile, perché abbiamo con noi il dottor Ruben De Luca, psicologo e criminologo e grande esperto, insomma, credo che per quanto riguarda il panorama europeo, il più grande esperto proprio in relazione al fenomeno dei serial killer che ha studiato e documentato in lungo e in largo, creando una banca dati che fa invidia davvero a gran parte del mondo, quantomeno occidentale. Buonasera a Ruben, mi fa veramente piacere averti qui con noi questa sera. Buonasera Roberta e buonasera a tutti. Questa è la tua ultima fatica, che si chiama Serial Killer, da Giacomo Squartatore ai mostri di Rostov e di Foligno, una lunga linea di sangue che attraversa l'Europa. Ho avuto l'onore di curare la prefazione, però sicuramente è un testo che raccomando vivamente per chi è interessato a questo specifico aspetto di interesse criminologico. Certamente questo è un libro che non può mancare nella vostra libreria, è sicuramente anche una fonte da cui puoi documentarvi in maniera precisa. Cominciamo con la domanda iniziale. Questo testo è un po' anche la storia della tua carriera fondamentalmente, raccoglie tantissimi anni di studio dedicata proprio a questa categoria di persone. Non è l'unico testo che è dedicato ai Serial Killer, però sicuramente questo è il testo di riferimento per quanto riguarda le tue ricerche condotte in tutti questi anni. Sì, hai perfettamente ragione Roberta e sono particolarmente orgoglioso e fiero di questo lavoro e devo dire la verità, in qualcosa di negativo come è stata la pandemia e come è stato il lockdown, diciamo che io ho tratto un elemento positivo perché in effetti mi sono chiuso a scrivere tipo anche 10-12 ore al giorno, ho contattato un sacco di esperti europei che non conoscevo assolutamente, sono stato particolarmente colpito dalla semplicità di tutti i professionisti che ho contattato, che hanno aderito con gioia a questo progetto, che è in effetti un unicum perché di solito sentiamo sempre parlare di Serial Killer, l'FBI, gli studi FBI, gli americani, però l'Europa sembrava proprio inesistente come continente, io infatti mi sono interrogato al di là dei Serial Killer europei che ok si sapeva che esistevano, ma proprio professionisti criminologi, io ho scoperto delle persone bellissime di cui non avevo mai sentito parlare e loro non avevano sentito parlare di me per un semplice fatto che i loro testi sono scritti soltanto nelle lingue dei rispettivi paesi, quindi in tedesco, in cieco, in svedese, e non c'è stata una traduzione in inglese, di conseguenza la barriera diciamo linguistica ha creato questo cortocircuito. Certo, però col tuo testo questo cortocircuito l'hai ampiamente risolto perché tu come l'hai impostato, cioè come l'hai costruito questo testo? Perché ci sono voluti anni per riuscire ad arrivare a una pubblicazione così completa e così dettagliata, scrupolosamente documentata poi. Allora, sì, considera che io ci stavo lavorando da tre anni, ma ci ho lavorato per tre anni, questa idea però è nata nel 2001 quando ho pubblicato il primo libro con Giuffre Editore, che avevo creato una banca dati mondiale, però poi ho capito che insistere su quel percorso della banca dati mondiale sarebbe stato assolutamente al di là anche delle mie capacità ossessive perché è troppo vasto. E allora ho, diciamo, focalizzato l'attenzione sull'Europa. Ci sono un sacco di amici che stanno chiedendo dove trovarlo, vi posto io ragazzi in chat il link per scaricarlo anche per ordinarlo tramite Amazon o tramite, diciamo, i principali canali di vendita, tanto l'editore Newton Compton, quindi è un testo comunque che si trova facilmente, però vi posto il link di Amazon in modo tale che, insomma, chi di voi è interessato può anche acquistarlo in tempo reale durante la puntata. Sì, e quindi dicevo, ho deciso di focalizzarmi sull'Europa e ho iniziato a raccogliere casi, ho iniziato a raccogliere casi di serial killer attivi in Europa, chiaramente cercando di utilizzare più fonti possibili, quindi non limitandomi alla mera ricerca su internet, ma acquistando tutti i libri possibili e immaginabili in inglese, in francese, in tedesco, facendo ricerche nelle biblioteche, devo dire che l'epoca di internet in questo sicuramente agevola uno studioso come me perché, diciamo, comodamente seduto a casa senza dover prendere aerei su aerei ho potuto fare un lavoro di ricerca veramente capillare e in questi ultimi anni sono stato aiutato appunto da questi esperti europei che quando ho esposto la mia idea hanno condiviso i loro dati con me e mi hanno in molti casi anche fornito tantissimi casi, tantissimi nominativi di cui io non sapevo niente proprio per la impossibilità. Tu hai trovato una grande condivisione con gli altri studiosi europei di questo tipo di ambito? Sì, ho trovato una grande condivisione. Il primo è stato Stefan Arbort che è un magnifico professionista, ex capo della polizia di Dusseldorf che come me si occupa, io ho scoperto che Stefan Arbort ha scritto almeno una decina di libri sui serial killer di cui io non avevo mai avuto sentore proprio perché sono stati tutti pubblicati in tedesco e tra parentesi lui ha realizzato un modello di interpretazione di studio le fasi dell'omicidio seriale che io appunto riporto nel libro che non hanno nulla da invidiare alle famose sette fasi di Joel Norris che dal 1988 la fase aurorale di appuntamento. Quindi per dire che in realtà se uno gratta la superficie in realtà ci sono delle scuole criminologiche validissime che non hanno nulla da invidiare all'FBI. Ti cito un altro esempio perché proprio lo specchio dello studio che hanno fatto gli americani, il famoso studio che è stato immortalato da Mindhunter di John Douglas dei 36 serial killer incarcerati. In Ucraina che proprio anche per entrare nell'attualità tra il 2012 e il 2014 hanno fatto uno studio simile intervistando criminali sessuali e serial killer incarcerati e chiedendo a questi serial killer di proprio valutare le loro azioni e hanno realizzato un manuale di 720 pagine dove proprio fanno un profilo dettagliatissimo dell'omicidio seriale e di questa cosa anche non si sapeva niente per dirti. Quindi veramente delle cose... Ora abbiamo due domande che ti passo subito perché non saprei rispondere. Allora, Frelli scrive, i suoi colleghi europei quali gioie e dolori della professione hanno maggiormente condiviso con lei? Ma in realtà gioie e dolori nel senso che io ho chiesto qualcuno, chiaramente è capitato anche qualcuno che non mi ha risposto. La maggior parte mi hanno risposto, c'è chi ha scritto proprio un articolo, un cartello che il libro e l'ha firmato, altri hanno risposto ad alcune domande o hanno fatto tipo intervista via mail e diciamo che tutti quanti erano entusiasti e si sono stupiti proprio di questo... che ci fosse questo interesse da parte dell'Italia di fare questo lavoro insieme a me perché non conoscevano nella maggior parte dei casi appunto come io non conoscevo loro, loro non conoscevano me ma neanche la scuola criminologica. Quindi diciamo più tutte gioie di dolori nella stesura del libro non li ho visti. Però hai avuto però modo di vedere un confronto tra studiosi, sicuramente questo è stato molto importante, quindi c'è la possibilità di costruire un ponte di comunicazione tra chi si occupa poi della stessa materia, anche fuori dal circuito universitario che su questi temi forse è ancora un po' indietro possiamo dircelo. Sì, c'è assolutamente e quello che mi ha fatto molto piacere è stato anche vedere che le mie teorie, le mie idee che sviluppo da più di vent'anni proprio con lo studio ossessivo e certosino pur non avendo magari l'esperienza pratica di altri colleghi tipo Stefan Arbort che comunque lui ha parlato proprio. Però poi in realtà la mia definizione e la sua di serial killer sono molto simili e quindi ci siamo ritrovati molto molto simili da questo punto di vista. Senti, allora Michelangelo Monreale ci chiede, negli Stati Uniti ci sono, anzi ci crede, afferma che negli Stati Uniti ci siano l'80% dei serial killer di tutto il mondo, è un dato che ti torna? È un dato che non torna assolutamente nel senso che appunto il problema della maggior parte di questi dati è che sono dati che provengono da studi americani. Gli americani hanno un grossissimo difetto e me ne sono accorto perché in uno dei capitoli introduttivi prima di affrontare l'Europa in realtà ho contattato anche il professor Mike Hamod che è il titolare della Banca Dati Mondiale che diciamo sta curando con due università statunitensi che mi ha mandato i suoi dati e vi posso garantire che ho visto veramente un pressappochismo sull'Europa, sugli altri continenti, da far veramente paura nel senso che erano riportati dei nominativi che fanno parte della mitologia, non c'era un confine temporale, per esempio io nella mia Banca Dati sono partito dal 1801 fino ad oggi e questa scelta è stata ben ponderata proprio perché prima non abbiamo fonti abbastanza attendibili. Quindi diciamo che questo dato dell'80% negli Stati Uniti è un dato assolutamente falso rispetto al resto del mondo, proprio perché è sottostimata la quantità di serial killer nei paesi europei e nel resto del mondo. Faccio un esempio concreto, nei territori dell'ex Unione Sovietica è molto probabile che il numero di serial killer sia assolutamente identico o anche superiore a quello degli Stati Uniti, c'è un fortissimo numero scuro e c'è stata una fortissima sottovalutazione del fenomeno, per cui l'80% assolutamente no. Direi che potrei stimare anche se non ho fatto una ricerca appunto approfondita sull'omicidio seriale in America, ma siamo sul 60, massimo 70% possiamo arrivare, sicuramente l'80% no. Una cifra troppo elevata rispetto a tutta una serie di altri casi che evidentemente non sono conosciuti, che il tuo libro traccia e ricostruisce e anche con grande precisione che effettivamente danno una visione diversa e un po' più realistica della situazione. Invece in Europa come siamo messi? Qual è il paese più popolato da questo tipo di predatori? In Europa, Roberta, appunto, io ho calcolato, perché poi ecco nel libro spiego molto bene alcune scelte, per esempio l'ex Unione Sovietica, io non ho fatto delle statistiche separate, cioè Russia, Ucraina, Kazakistan, Bielorussia, ma ho calcolato l'Unione Sovietica, quindi da un punto di vista geografico, quindi non dal punto di vista storico attuale, come gli Stati Uniti, cioè quindi un insieme di Stati, per un motivo molto semplice, che la maggior parte dei serial killer che si sono mossi sul territorio sovietico erano molto mobili, cioè in realtà anche Cicatilo, chiamato, ribattezzato il mostro di Rostov, in realtà Rostov è vero che è la città in cui ha ucciso più vittime, però si è spostato in Russia, in Ucraina, in tante altre città, per cui c'era una mobilità territoriale che faceva sì che praticamente era impossibile distinguere solo serial killer russi o serial killer ucraini, quindi i territori dell'ex Unione Sovietica, io ho trovato che nel complesso hanno, nella mia statistica ho trovato circa 700 nominativi e parliamo di quelli identificati con nome e cognome, dal 1801 a oggi. Poi abbiamo a ruota le nazioni più industrializzate, quindi abbiamo Inghilterra, Italia, Germania e Francia. In Italia ci sono molti più serial killer di quello che si pensi, ad esempio, perché anche qui in Italia... Ti hai anche un'idea di quanti ce ne siano in Cina e Asia? No, assolutamente no, non ho fatto questo studio perché appunto ho dovuto circoscrivere perché altrimenti non veramente sarebbe stato infernale, quindi non ho assolutamente idea. Quello che posso dire dal mio studio precedente che l'ho fatto è che in Cina probabilmente c'è lo stesso tipo di discorso che c'è in ex Unione Sovietica, cioè un numero scuro molto elevato, quindi un numero di serial killer che non sono stati catturati e identificati. Quindi insomma, e un'altra domanda interessante, dalle sue ricerche nell'estudio d'Europa che livello di morbosità mediatica ha riscontrato su questi casi di cronaca? Beh, credo che siano abbastanza... insomma, abbiamo visto Roma in questi giorni, prima questa velocissima indagine perché in meno di 48 ore questo soggetto è stato per fortuna individuato ed arrestato, ma per i 48 ore praticamente in tutta Italia non si parlava d'altro insomma. Vero, vero, ma questa domanda mi permette di focalizzare su un punto di estrema differenza che c'è tra l'Italia e il resto d'Europa, che l'Italia è un po' l'unico paese dove c'è questa mole di trasmissioni, io non giudico se sia giusto o sbagliato, mi limito a riportare un dato, tutte queste trasmissioni, appunto tutte queste discussioni su casi di cronaca che avvengono prima di una sentenza nel resto d'Europa non esiste, nel senso che nel resto d'Europa funziona così, avviene un crimine, vengono date le notizie ai telegiornali, ai notiziari, però poi prima di fare i talk show, i dibatti di approfondimento si aspetta che ci sia un arresto e che ci sia una condanna di primo grado, per cui diciamo che da un punto vista della morbosità qui in Italia siamo abbastanza davanti. Siamo avanti, almeno su un aspetto siamo avanti, insomma possiamo dire. Fermo restando che l'interesse per omicidi, cioè più c'è sangue, più c'è sesso e più gli omicidi sono violenti e più c'è l'interesse della gente, questa è una caratteristica generale. Per rassicurare il nostro amico Guglielmo, che è uno dei nostri amici più affezionati e che indubbiamente ci segue da tanto tempo, che dice Doc quando c'è lei non c'è Langella, Giovanni Langella è un altro mio collaboratore, uno di quelli più importanti e viceversa, sembra la trama di Lady Oak, tranquilli, non siamo la stessa persona, semplicemente io e Giovanni ci siamo divisi le puntate, quindi quando ci sono io non c'è lui, a volte facciamo delle puntate congiunte, ma come gruppo di lavoro ci siamo un po' divisi di spazi proprio per riuscire a dare continuità alla trasmissione compatibilmente con i nostri impegni, quindi tranquillo Guglielmo, non mi trasformo la mattina in Giovanni Langella e lui non si trasforma in me la sera, quindi non si preoccupare. Ok, giusto per sorridere un attimo di quello che ci dicono i nostri amici. Allora, ci sono dei serial killer, ci chiede Luca, che si sono suicidati? Sì, assolutamente sì, esistono in tutti i paesi del mondo, sono dei serial killer, allora i serial killer hanno una reazione di diverso genere quando vengono arrestati, ci sono quelli che confessano immediatamente, che generalmente proprio hanno un peso e non vedono l'ora di poter confessare, ci sono poi quelli a matrice psicopatica, quindi quelli che sono più manipolatori, che non confessano, oppure distillano le confessioni, confessano appuntate anche per mantenere l'attenzione degli investigatori su di loro e ci sono casi di serial killer che si suicidano, qui non è stato fatto, ecco io anticipo che ci sono molti settori, in realtà lo studio dell'omicidio seriale è relativamente giovane perché parte dagli anni 80 del ventesimo secolo, per cui l'incidenza di suicidi non è stata ancora studiata da nessun ricercatore, però esistono, esistono diversi casi, io mi ricordo un caso in particolare di un serial killer americano che era un omosessuale latente e che praticamente si chiamava Herbert Bauer Meister, che quindi non è uno dei serial killer famosi tipo Ted Bundy o John Wayne Gacy, che lui aveva mantenuto questa facciata di rispettabilità per praticamente 30 anni, era sposato e aveva figli, in realtà era un omosessuale latente, aveva ucciso omosessuali e quando la polizia stava per arrestarlo lui si è suicidato senza lasciare un biglietto di spiegazioni, quindi capita che i serial killer si suicidino, alcuni dei casi più famosi se pensiamo anche per tornare all'Europa, Harold Shipman, il famoso dottor morte in Inghilterra considerato probabilmente il serial killer più prolifico al mondo, è stato condannato per 250 omicidi, ma nei 30 anni in cui è stato medico della mutua potrebbe aver ucciso più di 3000 persone, si è suicidato proprio prima del processo. Anche Frederick West, uno dei due membri della coppia dei mostri di Gloucester, Frederick e Rosemary West, si è suicidato mentre lei e Rosemary ha affrontato il processo da sola, quindi sì, i serial killer si suicidano a volte quando la facciata si sgretola e non vogliono affrontare il virus. Se hanno una base di tipo narcisistico non faccio fatica a pensarlo perché l'essere smascherati, la vergogna che chiaramente porta con sé l'essere attribuiti a quel tipo di situazione, indubbiamente se c'è una base narcisistica il suicidio è una delle opzioni che è sempre percorribile per questo tipo di soggetti, quindi ci sta assolutamente. Una bomber è considerata un serial killer? Allora, Piero, l'una bomber Kaczynski, cioè l'americano, o l'una bomber del nord-est? Rispondo per tutti e due che così tagliamo la testa al poro. Allora, l'una bomber originale Tedor Kaczynski è assolutamente un serial killer per un motivo molto semplice, perché gli ordigni esplosivi da lui realizzati avevano capacità letale, quindi erano ordigni pensati, ideati e progettati per uccidere, tant'è vero che nei suoi 17 anni di attività ha fatto tre vittime. L'una bomber italiano, che poi è stato erroneamente soprannominato una bomber, perché il termine una bomber è l'acronimo che significa UN, vuol dire University, Airlines Bomber, proprio perché gli obiettivi di Teodor Kaczynski erano professori universitari e dirigenti di compagnie aeree. Invece l'una bomber nostrano che ha colpito nel Friuli Venezia Giulia, non realizzava degli ordigni con capacità mortale, ma il suo obiettivo era quello di ferire e mutilare, quindi è più corretto chiamarlo un criminale seriale, ma non un serial killer. Sì, è un cosiddetto serial bomber, ma non un serial killer. Allora, chiede Anna, visto che ha riterato la domanda, adesso le rispondiamo, ma il mosso di Firenze è un serial killer? Cosa intendi? Che ha agito una sola persona? Cioè, qual è? La domanda potrebbe essere interpretata, nel senso che ritieni che possa essere un solo soggetto quello che ha agito? Ho interpretato bene la domanda? Anna? No, penso che la domanda sia se si può definire serial killer. O se ha agito da un... Vabbè, comunque rispondiamo. Beh, io anche qui rispondo a tutte e due. Ecco, il caso del mosso di Firenze è un caso sul quale probabilmente non si troverà mai pace, tipo Jack lo squartatore. Io volutamente non ho inserito il nome di Pietro Pacciani, e lo spiego nel libro, nella casistica, perché è un caso dove veramente c'è stata tantissima confusione. Se la domanda è se il mosso di Firenze come come tipologia è un serial killer, la domanda è assolutamente sì. Nel senso che abbiamo un assassino che prendeva di mira le coppiette. Peraltro anche qui il discorso della vittimologia alle coppiette non è una novità del mosso di Firenze, ma esistono diversi casi sia statunitensi che europei dove le vittime... Sì, ma poi ci sono anche diversi casi europei poco noti, che chiaramente non sono assurti all'onore delle cronache, dove le vittime sono le coppiette. Perché la coppia rappresenta per un soggetto con problemi sessuali, con turbe di relazioni, con incapacità a relazionarsi con le donne è un oggetto di rabbia, è un oggetto che catalizza la rabbia, canalizza la rabbia la coppia. Quindi sicuramente il mosso di Firenze è un serial killer. Se poi volete sapere cosa ne penso io, io penso come era il profilo originario dell'FBI che si tratti di un individuo solitario che ha ucciso per problematiche sessuali molto gravi. E questo sarebbe anche completamente compatibile con questa firma comportamentale che nell'arco dei vari duplici omicidi comunque evolve, perché anche la gravità e la profondità delle mutilazioni non è la stessa dall'inizio alla fine. Quindi c'è una fantasia che si struttura e questo è tipico di un soggetto che agisce in solitudine e che poi raffina, in base anche alla fantasia che diventa sempre più chiara anche nella sua mente, il tipo di rituale che mette in campo sulla scena. Non solo, non solo. Insomma i mostri di Firenze, ossia i compagni di merende, faccio un po' fatica a calarli anche per il tipo di profilo che avevano in questo tipo di condizione. Mettiamoci inoltre, giusto per completezza, che i mostri, diciamo i compagni di merende, vengono condannati per quattro degli otto duplici omicidi. Quindi comunque restano fuori altri quattro duplici omicidi che ovviamente Giancarlo Lotti non era riuscito a ricostruire, quindi aveva detto che erano estrani. Quindi non si comprende come sia possibile pensare che metà della serie sia stata commessa da qualcun altro in considerazione della coerenza comunque abbastanza ampia sotto tantissimi aspetti nella modalità esecutiva, sia nel modus operandi ma soprattutto nella firma. Quindi se la domanda è, siete convinti che la strada dei compagni di merende sia quella giusta, per quello che mi riguarda ti dico in tutta onestà no, assolutamente no. No, poi anche per fare una precisazione sulla personalità, detto in termini molto semplici, il profilo di Pacciani è proprio agli antipodi rispetto al profilo del mostri Firenze, che è un soggetto che usava l'arma da taglio per violentare, per usare violenza e penetrare i corpi, quindi molto probabilmente aveva delle problematiche sessuali ed era un tipo di soggetto implosivo, cioè un soggetto che manteneva la rabbia e l'odio nei confronti delle donne dentro, probabilmente con una facciata di rispettabilità e poi attraverso gli omicidi buttava fuori. Pacciani era tutto l'opposto. Pacciani è vero che aveva commesso un omicidio nel 51, aveva ucciso vedendo la fidanzatina dell'epoca e faceva sesso a un altro uomo, ma Pacciani era appunto un esplosivo, uno che perdeva il controllo del comportamento e ha violentato le figlie, cioè era un soggetto moralmente orribile e quindi anche un perfetto colpevole, però non era certamente capace di controllare il comportamento. No, poi lo vedi Pacciani prelevare un pezzo del seno della Muriò, l'ultima vittima femminile della serie, prelevare Solembo, mettere una busta, spedirlo all'unica donna magistrato che si era occupata dell'inchiesta e che non era più peraltro in servizio presso l'inchiesta già almeno da due anni, per dare comunque un messaggio di sfida agli inquirenti, cioè al di là del fatto che l'utilizzo fosse scritto in maniera scorretta, ma probabilmente è un soggetto totalmente sofisticato che non aveva, insomma, che forse era un modo semplicemente per depistare la parola repubblica scritta in maniera sbagliata, ma è un livello proprio di sofisticazione e anche di sfida nei confronti degli inquirenti che fai un po' fatica a calare in uno come Pacciani, in uno come Vanni, in uno come Lotti o come Pucci, cioè qualcosa di veramente, peraltro con l'obiettivo di far pervenire la lettera col macabro, diciamo, lembo di pelle, di tessuto della povera Muriò, prima che venissero trovate le salme, circostanza che non gli riesce perché, fatalità, la presenza dei due corpi verrà segnalata prima che la lettera giunga a destinazione. Però è un'attività che, ripeto, comporta un certo tipo di strutturazione complessiva di personalità che non è coerente con nessuno dei soggetti indicati in questa storia, insomma. Quindi, insomma, credo che effettivamente, io comprendo che sia una storia che ancora appassiona perché è una storia davvero con un finale ancora da scrivere, peraltro è proprio notizia di questi giorni che un nipote di Vanni sta tentando la revisione, sta tentando di chiedere la revisione in qualità di erede, diciamo, di uno dei mostri, fondamentalmente, perché Vanni e Lotti vennero poi condannati in via definitiva per i delitti, per quattro dei duplici omicidi del mostro e sono deceduti in carcere, chiaramente, ormai diversi anni fa. Il nipote di uno, insomma, uno dei nipoti di Vanni ha deciso di tentare la strada della revisione, convinto che chiaramente lo zio fosse estraneo ai fatti, come peraltro ha sempre sostenuto, perché l'inchiesta si basa principalmente sulle dichiarazioni di Giancarlo Lotti. Giancarlo Lotti, soggetto fragile dal punto di vista psicologico, problematico, con, insomma, anche dei deficit di natura cognitiva, quindi soggetto che, insomma, costruisce un'inchiesta sopra di questa portata, obiettivamente forse è stata un po' una scelta discutibile, insomma, perché obiettivamente Lotti dice un sacco di cose che non hanno trovato alcun tipo di riscontro. Quindi, ragazzi, il mostro di Firenze è sicuramente ancora un'inchiesta che probabilmente potrebbe essere una propria spesa. E poi c'è stata l'ultima teoria fantasiosa degna di un film fantasiosissima che il mostro di Firenze e Zodiac, l'assassino seriale che non è mai stato catturato negli Stati Uniti, fossero la stessa persona, quindi un italo-americano che ha ucciso sia negli Stati Uniti che in Italia, che se fosse vero sarebbe veramente… C'è un nome e cognome, peraltro, cioè, addirittura viene indicata una persona che ha un nome e un cognome che aveva passato un periodo negli Stati Uniti e poi era venuto a vivere in Italia, secondo alcuni addirittura sarebbe lui, sia Zodiac che il mostro di Firenze, che sono due vicende, insomma, difficilmente conciliabili sotto tanti profili. Sì, e che poi le indagini e fine di nulla di fatto, se fosse vero sarebbe veramente vincerebbe l'Oscar dei serial killer, perché inafferrabile due serie così è veramente inverosimile. Comunque, come vedete, la questione, insomma, comunque i seriali in Italia non sono mila mancati. Il più vecchio caso italiano che hai ricostruito qual è? Ma ci sono diversi casi del XVIII secolo, diciamo, alcuni dei più importanti, vabbè, quello più famoso, antico, è quello di Vincenzo Verzeni, analizzato anche da Cesare Lombroso e dalla psichiatra Krafthebing. Verzeni era un necrofilo, in realtà uccise solo due vittime, ma violentò diversi cadaveri e comunque è stato un caso particolarmente morboso. Però ci sono stati diversi casi anche prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi non è vero. Per esempio, durante il fascismo si tendeva a dare questa immagine che è tipico di tutte le dittature di un paese dove la criminalità era. Considera che nel XXI chiaramente non si poteva neanche parlare di cronocanera sui giornali, insomma, no? Dopo la fine del regime fascista il primo grande caso mediatico fu la vicenda di Rina Forte, forse ricorderete La Belva di San Gregorio, fu il primo grosso processo che venne seguito dai media perché finalmente si poteva tornare a trattare anche questo tipo di casi nella cronaca nazionale, sulla stampa all'epoca principalmente. Però per esempio c'è stato un caso di un barbablu che ha ucciso donne tra il 1924 e il 27, Cesare Serviatti, che era un agente di commercio che ha ucciso sia Roma che la Spezia. C'è stato il famoso caso del Giro Limoni, cui vi invito anche a vedere il film con Nino Manfredi, un caso che ha segnato anche la linguistica perché ancora oggi dire sei un Giro Limoni vuol dire offendere una persona e dirgli che è un pedofilo. In realtà poi Gino Giro Limoni venne completamente scagionato ma la notizia non ebbe la stessa risonanza del suo arresto per cui morì poi in povertà e rimase segnato come mostro tutta la vita. Ecco una chicca che vi posso dire è che consultandomi con gli esperti europei curiosamente ho notato che ci sono solo due casi che conoscono in tutta Europa in riferimento all'Italia. Il primo è ovviamente il mostro di Firenze, il secondo non è Donato Bilancia che pure è il serial killer italiano con individuale col più alto numero di vittime, 17, ma è il caso di Leonardo Cianciulli. Questa donna che... Guarda, ce lo stava proprio chiedendo a Guglielmo di parlare anche di lei, insomma, la cosiddetta saponificatrice di Correggio. È un caso che è stato che conoscono tutti gli esperti europei, cioè io tutti quelli con cui ho scambiato opinioni mi citavano ovviamente il mostro di Firenze ma la saponificatrice di Correggio. Sicuramente la saponificatrice di Correggio Leonardo Cianciulli era una serial killer, una serial killer in questo caso con psicosi conclamata perché lei ha ucciso tre donne tra il 1939 e il 1940 perché aveva un delirio, perché aveva delle allucinazioni. Siccome lei aveva avuto 13 gravidanze, quattro figli erano morti prematuri, altri erano morti poco dopo il parto, praticamente gliene erano rimasti quattro in vita e lei si era convinta, era convinta di parlare con la Madonna ed era convinta che se avesse fatto dei sacrifici umani sarebbe riuscita a preservare la buona salute dei figlioli rimasti. Per cui lei invitava delle signore di mezza età a casa sua con la scusa di offrire tè e pasticcini poi le tramortiva e le uccideva e il caso fece particolare scalpore perché lei faceva pezzi corpi e con un procedimento particolare ricavava il grasso dai corpi delle vittime e faceva proprio dei biscotti che poi vendeva, delle torte con parti del cadavere. Al processo quando lei raccontò questa cosa la giuria e i giudici non le credettero e lei chiese proprio di fare una dimostrazione pratica quindi di far portare in aula un pentolone con un cadavere e fece una specie di dimostrazione pratica. Per cui è un caso particolarmente cruento che ha colpito l'immaginario anche degli studiosi europei. È in effetti proprio un caso da fin dell'orrore insomma da questo punto di vista. Sì anche qui c'è c'è il famoso film probabilmente è conosciuto il caso anche perché la interpretò in un film di Maui Bolognini Shelley Winters che fece proprio Leonardo Cianciulli l'attrice americana. Un altro caso quindi sono cioè la Cianciulli e il mosto di Firenze come casi diciamo più sono quelli che conoscono sì esattamente non bilancia non Giancarlo Giugno Bergamo giudice no loro no no qualcuno sì ma universale cioè tutti gli esperti con cui io mi sono scambiato contatti mostro i Firenze e Leonardo Cianciulli garantito. Particolare come peraltro insomma uno dei casi serial killer donne perché una delle domande che faceva uno dei nostri amici che si sta seguendo è proprio questo no? Nella tua ricerca che ruolo e che spazio hanno avuto le serial killer al femminile? Eh questo è un universo affascinante che anche qui è un universo che dagli studiosi statunitensi è stato poco approfondito. Se vi ricordate quando uscì nel 2003 il film Monster con Charlize Theron nel ruolo di Eileen Wuornos molti claim pubblicitari recitavano col titolo la prima donna serial killer in realtà il caso di Eileen Wuornos colpì molto l'immaginario collettivo perché era uno dei rari casi di donne che uccidevano con modalità maschili quindi aveva un atteggiamento predatorio usava la pistola quindi non usava il veleno non era sedentaria. Eh l'universo femminile è rappresentato nella mia ricerca ho trovato un 15% di ehm presenza femminile che è una percentuale eh più alta rispetto agli studi americani che classificano solo una percentuale tra il 5 e il 10% a seconda degli studi. Questa differenza di percentuale è dovuta al fatto che esiste ancora una forte resistenza culturale sia negli studiosi ma anche nei giudici a considerare le donne capaci di omicidio seriale. C'è poi da eh da fare un'altra considerazione per molti anni si è pensato e si è classificato l'omicidio seriale semplicemente quello su matrice sessuale per cui veniva chiamato serial killer solo il soggetto che uccideva agendo per versioni sessuali. Siccome le donne nella stragrande maggioranza dei casi non agiscono per versioni sessuali non venivano considerate serial killer. La definizione però è cambiata nel 2005 c'è stato un simposio internazionale per cui si è eh creata una definizione di serial killer che è sulla dalmovente quindi si definisce serial killer solo un soggetto che uccide due o più vittime. Ma senza. Esatto. Quella poi c'è un'ulteriore classificazione che è possibile operare però. Esatto. Un numero di vittime almeno due diciamo nella definizione attuale si può parlare di di seriale da da due in su fondamentalmente come. Esatto. Che poi tra l'altro ecco io lì distingo ad esempio l'azione omicidaria dall'omicidio perché esistono dei casi in cui eh un soggetto mostra una chiara volontà di uccidere e per motivo assolutamente fortuito la vittima sopravvive. per esempio c'è un caso svedese che tratto con dovizia di particolare nel libro John Ausonius che ha ucciso una vittima e ne ha ferite eh dieci ma è a tutti gli effetti un serial killer perché lui sparava per uccidere mirava la testa mirava al tronco. Poi veramente per a volte non c'è con un colpo in testa e tre nella schiena sopravvissute in coma ma non morte. Cioè poi in realtà uccidere una persona io mi sono reso conto eh con questo studio approfondito che ho fatto che è molto difficile uccidere una persona. Ad esempio c'è un caso di un serial killer cieco della Repubblica cieca che ha portato una prostituta in un campo, l'ha violentata, le ha tagliato la gola da parte a parte e l'ha lasciata eh priva di sensi convinto che fosse morta. Questa prostituta pur avendo perso tantissimo sangue è riuscita a tamponare la ferita, trascinarsi un casolare poco distante ed è stata salvata. Cioè ma eh chiaramente il soggetto che ha tagliato la gola da parte a parte e voleva uccidere a tutti gli effetti. Jurassic Pride ci chiede una cosa interessante. Cosa distingue il serial killer da un plurumicida affiliato alla criminalità organizzata? Quale delle due categorie è quella peggiore? Beh allora intanto è così possiamo introdurre anche un po' il caso il caso attuale. Esiste una categoria particolare per cui ho coniato io una definizione cioè ovvero i serial killer nascosti che sono dei soggetti che mostrano eh in adolescenza, in giovane età una tendenza particolare, un'inclinazione alla violenza e tendenze psicopatiche che riescono a canalizzare questi ehm queste pulsioni eh entrando a far parte per esempio di un'organizzazione criminale. Per cui quelle pulsioni che li renderebbero dei soggetti isolati dalla società, quindi dei soggetti reietti, in realtà li rendono molto appetibili invece per un'organizzazione criminale proprio perché sono soggetti privi di scrupoli che possono diventare degli ottimi sicari perché commettono degli omicidi senza provare nessun tipo di rimorso. Quindi diciamo che la differenza fondamentale è data dalla motivazione nel senso che il plurumicida che fa parte di una organizzazione criminale generalmente si presume che commetta gli omicidi essenzialmente come una forma di lavoro, quindi perché deve obbedire agli ordini del boss. Però esiste una zona grigia, cioè non sempre è possibile definire in maniera così netta, di eh soggetti che fanno parte di organizzazioni criminali che provano anche un piacere proprio perverso nell'uccidere, quindi hanno una personalità da serial killer. Vi cito un caso per tutti, Richard Kuklinski, un serial killer passato alla storia col soprannome di Iceman, l'uomo di ghiaccio, che era un sicario al soldo della mafia di Chicago e lui in alcuni momenti in cui per esempio non c'erano omicidi da commettere per la famiglia per la quale lavorava ogni tanto uccideva delle prostitute perché aveva proprio bisogno di uccidere, aveva proprio bisogno di provare l'onnipotenza che lui sperimentava quando uccideva, per cui era sia un pluriumicida ma anche un serial killer. Quindi insomma e qui veniamo un po', io c'è una persona che ci segue che però mi fa delle domande che non è che siano molto chiare. Eh Meritata Vernelli, ma dottoressa una domanda, esista, esistono assassino con le mani al vento oppure assassini nei quadri? La domanda però ce l'ho più io, ma tu sei sicuro di sapere di che cosa stai scrivendo? Perché le mani al vento mi sfugge. No, ma non saprei come. C'è anche un altro post di di questa persona che è molto un po' sconnesso. Eh se vuoi darci maggiori chiarimenti possiamo tentare di rispondere, ma questa domanda mi sembra abbastanza farne di cante, te lo te lo dico proprio sinceramente. E e quindi insomma difficilmente si può rispondere. Allora soprattutto la prima parte le mani al vento. Io posso giusto brevemente assassini nei quadri per dire che in un libro eh che ho scritto nel 2006 omicida e artista le due facce del serial killer mi sono accorto che per esempio molti serial killer quando vengono arrestati hanno una passione, sviluppano una passione per la pittura, per l'arte figurativa e quindi diciamo che possono utilizzare il disegno per traslare la pulsione omicida, ecco per dare una risposta così diciamo un po' a senso. Certo, però guarda questa meritata Vernelli credo che abbia qualche problema. Dio mio come mi sento umana, viva sono Dio, non vuoi essere felice nella tela del ragno? Ora sei perfetta, ti vedo sei lei ora finalmente. Eh ciccio, mi sa che qua forse è il caso che contatti qualcuno e chiedi aiuto perché non mi pare che stai benissimo eh, chiunque tu sia, insomma mi permetto di dirti che probabilmente qualche qualche problemino qua e là diciamo io l'ora vedo. Sono tutti messaggi. Comunque quando si parla quando si parla di serial killer è anche abbastanza comune che succeda. Eh però vedete anche qui stasera abbiamo diciamo il vincitore sotto questo aspetto insomma. Quindi probabilmente non so chi tu sia però cosa aspetta che ho risposto. Scusi se l'ho fatto questa domanda, mi ho conosco solo assassini nel latte e ho sempre avuto tanta paura. Questa è una domanda solamente per capire se sono con i cereali che mangiano o stanno sotto al solo. Guarda, abbi pazienza. Credo che forse è meglio se vai da qualcun altro insomma perché questa non è non è la pagina per te. Merita Tavernelli, non è il posto per te. Credo che tu abbia bisogno di aiuto ma non siamo noi quelli giusti per dartelo. Quindi in bocca al lupo per tutto. Ok e va bene questo diciamo che possiamo anche gestirlo diversamente. Ok direi che va bene così. Va bene e quindi tornando al libro bene tornando al libro ripeto invece per quanto riguarda la realtà italiana che cosa che cosa ci puoi raccontare? Beh la realtà italiana è molto variegata ci sono però delle caratteristiche distintive rispetto al resto d'Europa. Per esempio per alcune tipologie di perversioni sessuali non sono molto presenti nei serial killer italiani. Ad esempio il cannibalismo che invece è molto presente nei serial killer tedeschi e dell'ex Unione Sovietica. Quindi i serial killer italiani dagli stessi quelli più famosi che abbiamo citato Marco Bergamo Andrea Matteucci passando per Giancarlo Giudice il camionista di Torino che uccideva prostitute Maurizio Minghella sono tutti assassini seriali diciamo che hanno magari usato violenza sulle prostitute quindi chiamiamoli classici tra virgolette ma non c'è un diciamo una perversione post mortem legata appunto per esempio al cannibalismo o anche alla necrofilia sono rari mentre nei paesi nordici. Per esempio Pizzoccolo che chiaramente non può essere considerato un seriale perché è stato arrestato dopo il primo suicidio che però effettivamente sembrava avere una sorta di possibile evoluzione in quella direzione e che c'era una componente sadica estremamente elaborata, l'aveva messo le sei telecamere all'interno della stanza d'albergo dove ha ucciso la ragazza pianificando tutto con le fascette insomma tutto quanto, poi ha prelevato il cadavere, l'ha posizionato nel bagagliaio dell'auto l'ha portato in un altro motel a 90 km rispetto a quello dove aveva consumato l'omicidio anche lì aveva posto altre telecamere, stavolta solo tre, aveva continuato chiaramente a fare uso di cocaina in particolare e GVL e quindi arrivando a una condizione di grande alterazione comunque era riuscita ad arrivare all'altro motel, ha preso la stanza lì, ha peraltro scelto un motel in cui poteva parcheggiare l'auto a riparo da occhi indiscreti perché poteva parcheggiare davanti all'ingresso di questi mini appartamenti che erano a piano terra e a quel punto ha continuato ad abusare del corpo della vittima ma l'aspetto aberrante, avendo visto anche quella parte dei video, vi dico è che interagiva con la salma, col cadavere, come se fosse in vita quindi parlava durante tutta una serie di atti sessuali col cadavere chiaramente ancora in una condizione di assoluta flaccidità perché era morta da pochissimo quindi era ancora tiepida come temperatura e ancora completamente movibile in tutti i distretti corporei, ci parlava, ci interagiva durante quest'altra parte ancora più aberrante in cui ha usato anche oggetti per penetrarla quindi c'era una dimensione che effettivamente lascia davvero sconcertati e venne esaminato anche dal punto di vista psichiatrico proprio per la abnormità della condotta sessuale posta in essere, sia quella nel primo hotel ma soprattutto quella al secondo hotel per poi concludere il tutto, fortunatamente aggiungerei lasciando la vittima a poche centinaia di metri dall'ultimo motel peraltro con le salviette di cortesia, con il logo del motel sul volto della vittima per il resto completamente nuda ma al volto coperto da questa salvietta di cortesia ecco uno come pizzocolo se avesse proseguito diciamo indisturbato verosimilmente avrebbe nuovamente ucciso perché si vede perfettamente che c'è una fantasia alla base molto strutturata che porta a uccidere quella ragazza con quella modalità anche il modo per passare le fascette senza fargliele vedere mentre lei pratica un rapporto orale in modo tale da poterle fissare al capo della ragazza senza darle la possibilità di accorgersi di quello che stava accadendo e quindi di potersi difendere testimonia una fantasia rituale già abbastanza strutturata ecco un soggetto del genere avremmo avuto non poche difficoltà a leggere poi una firma complessiva perché c'era sia una parte sadica col soggetto in vita ma anche una parte diciamo post mortem se non proprio necrofila ma sicuramente post mortem che è veramente agghiacciante insomma e da qui lui sembra addirittura più attratto che dalla parte iniziale sì sì no ma infatti è un caso molto interessante chiaramente io non l'ho inserito come altri casi borderline no ma sai cosa se ci fosse stato anche solo oltre a questo omicidio un tentato omicidio con le definizioni moderne si può inserire per esempio Stefan Harbort addirittura è più estremo di me e considera serial killer anche due tentati omicidi cioè anche se non c'è una vittima effettiva io diciamo che almeno un omicidio per parlare di serial killer lo devo vedere perché altrimenti due tentati omicidi mi sembra un pochino una forzatura sarebbe diventato un seriale al 100% è quello su cui ho lavorato a Lecce due anni fa quello che ha ucciso Daniele Assolutamente sì come no perché lui aveva già una cioè aveva creato una sua intanto una sua firma abbastanza specifica anche molto dettagliata aveva elaborato il progetto di uccidere queste due persone per diversi mesi e aveva già una lista diciamo di potenziali altre vittime che verosimilmente avrebbe attenzionato di lì a poco se non fosse stato catturato ma infatti De Marco lo considero più possibile serial killer proprio perché c'era la lista di obiettivi fermo restando che anche Pizzogolo sono d'accordissimo con te a tutti gli elementi però De Marco c'aveva proprio la lista e quindi l'ha anche detto che voleva uccidere altre persone poi lui si era impersonato in questo sé grandioso che aveva costruito questo personaggio proprio con tutte le cose che lui tutte le qualità che lui non possedeva che aveva addirittura ribattezzato col nome vendetta nel suo caso la dimensione diciamo seriale non era alimentata dall'aspetto sessuale ma era proprio alimentato dall'invidia questo era il motore che spingeva le sue azioni insomma e che peraltro lo spingeva a pianificare tutto con estrema precisione perché si era addirittura scritta la lista ponendola poi su una serie di bigliettini che si è perso per strada scappando dalla scena in cui c'erano tutte le fasi che aveva previsto quella famosa sera compresa la tortura e addirittura compresa la ripulitura della scena e la scritta di una frase sul muro che poi non ha mai voluto rivelare quale fosse insomma perché c'era anche la componente della sfida agli inquirenti prevista nel piano criminale per cui è vero che il GIP quando lo interrogerà all'interrogatore di garanzia insiste sul chiedere a De Marco se si era ispirato dal film Seven noto film Seven perché ti assicuro che quello che è successo su quella scena non ha niente da invidiare ai delitti commessi da quel serial killer tant'è vero che il giudice è una persona bravissima veramente ha fatto un interrogatorio strepitoso gli ha proprio offerto questa chiave di lettura perché la modalità con cui aveva diciamo costruito tutto e pianificato quello che voleva fare a questi due ragazzi non ha nulla da invidiare alla ferocia e alla determinazione mostrata dal killer del film del noto film Seven insomma sotto questo aspetto quindi De Marco perché è stato preso in tempo per fortuna e qui c'era una domanda a cui magari a cui c'era prima ossia oggi che chance hanno i seriali rispetto a qualche anno fa con l'avanzamento poi delle tecniche investigative Bella domanda ed è uno mi permette anche di citare questo aspetto che spesso non si considera c'è una falsa percezione nel pubblico che i serial killer siano una tipologia di criminale in via di estinzione ci sono tantissimi articoli, tantissime riviste che hanno scritto dei titoli del tipo perché i serial killer stanno scomparendo ecco diciamo che rispetto alla seconda metà del ventesimo secolo quindi agli anni d'oro dei serial killer passatemi l'espressione provocatoria ovvero anni 70 fino agli anni 90 2000 in cui abbiamo avuto tutti i casi più famosi quelli che ci ricordiamo John Wayne Gassi, Ted Bundy, Cicatilo, il mosso di Firenze eccetera eccetera adesso c'è la percezione che i serial killer stiano scomparendo ma è una percezione totalmente errata qual è la differenza? la differenza è che sono più rari nel ventunesimo secolo i serial killer che riescono ad andare in doppia cifra perché? perché appunto sono migliorate le tecniche di andagine per catturarli però attenzione anche qui chiariamo una cosa non il profilo psicologico cioè ancora oggi e qui bisogna sfatare i miti di serie televisive come Criminal Minds e altre serie simili ancora oggi i serial killer la maggior parte dei serial killer si catturano con le indagini tradizionali perché c'è l'esame del DNA è migliorato non perché arriva il profiler e vi dice il nome e il cognome del serial killer quindi questa è la verità svincolata appunto dalla fiction televisiva e cinematografica quindi sicuramente i serial killer vengono catturati dopo aver commesso meno omicidi pensiamo anche a un altro fenomeno che era tipico degli anni 70 e 80 che adesso è in scomparsa cioè il fenomeno dell'autostoppismo molti serial killer per esempio molti serial killer camionisti negli Stati Uniti catturavano le loro vittime proprio tra i ragazzi e facevano autostop adesso diciamo anche le abitudini di viaggio sono cambiate la gente è più diffidente i bambini per esempio si avvicinavano più facilmente agli sconosciuti quindi per i pedofili c'era una maggiore facilità quindi un po' il cambiamento il miglioramento delle tecniche di indagine un po' certe abitudini che si sono perse in realtà però i serial killer esistono nella stessa proporzione rispetto al XX secolo solo che commettono meno omicidi e i mass media danno meno spazio perché nel 2001 c'è stato il World Trade Center per cui si è parlato di terrorismo oggi si parla molto di femminicidio e di altre problematiche tant'è vero che alcuni dei serial killer italiani più recenti hanno avuto solo dei trafiletti sui giornali parlo per esempio di Nobile, Izzo e Zaccaria Ismaini che sono due degli ultimi serial killer italiani che però credo che voi non abbiate mai sentito perché non hanno avuto molto spazio sui mezzi di informazione allora Michelangelo sempre a Morreale ci dice non c'è nessun tratto di personalità nessuna specifica malattia mentale nessuna particolare storia di violenza alle spalle nessuna singola motivazione che possono essere ritenuti condivisibili da tutti gli omicidi seriali riconosciuti questa è la conclusione del simposio del 2005 in America dove si sono riuniti i massimi esperti è d'accordo? sì bene nel senso che probabilmente non considerandoli tutti ragionando su categorie un po' più ristrette degli aspetti che tornano non dico sempre ma spesso ci sono quindi in tratti di personalità disfunzionali ci sono sempre perché diversamente non ti metti a uccidere la gente se sei sano e felice diciamo che questo è il motivo per cui è stata coniata questa definizione molto basica nel 2005 cioè il serial killer è il soggetto che uccide due o più vittime con un intervallo di tempo proprio perché questi esperti che si sono riuniti non hanno, non sono riusciti a tracciare un profilo di personalità comune sicuramente esistono delle categorie per esempio nei serial killer motivati dal sesso esistono dei disturbi di personalità dei tratti abbastanza riconoscibili ma anche come dicevi tu nelle altre categorie diciamo che un disturbo di personalità è una persona che uccide serialmente sicuramente c'è non si può fare di tutta l'erba un fascio e quindi fare un'unica categoria quello assolutamente no altra domanda molto interessante sono da considerare serial killer quei soggetti che riescono a provocare molti suicidi attraverso i social e le chat online? questa è una realtà da studiare io ho considerato nella mia banca dati due soggetti del genere di questa categoria ma perché erano molto specifici ce n'è uno un inglese William Herbert Dinkel che ha indotto al suicidio due persone una in Inghilterra e una in Canada lui praticamente come faceva si inseriva in chat appunto di persone depresse che pensavano al suicidio identificava i più vulnerabili e iniziava proprio un rapporto diretto di chat molto fitte in cui piano 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 convinceva la persona che non valeva più la pena vivere che quindi era meglio suicidarsi e sono morte due persone in questo modo e c'è stata una prima sentenza di condanna in Inghilterra proprio su questa base quindi è una sentenza più unica che rara però è una tipologia ancora molto molto da studiare quindi non c'è una catalogazione generale su questa tipologia altra domanda interessante c'è una relazione tra serial killer e quotiente intellettivo alto? assolutamente no questa è un'altra mitologia dei film diciamo che un serial killer alla Hannibal Lecter io non l'ho mai incontrato nel senso che il quoziente intellettivo dei serial killer e questo coincide sia in Europa sia nella banca dati del professor Hamod degli Stati Uniti i serial killer hanno generalmente un quoziente intellettivo medio quindi su 90-100 non ci sono sono poco rappresentati sia gli scarsi dotati intellettualmente sia i geni cioè non esistono serial killer raffinati hanno un'intelligenza ci appaiono intelligenti molti serial killer perché hanno un'intelligenza molto pragmatica quindi molto orientata al compito molto orientata alla pianificazione degli omicidi e a cercare di non lasciare tracce però assolutamente non hanno un quoziente intellettivo da geni c'è qualche caso sporadico di quoziente intellettivo leggermente superiore alla media è tornata la nostra meritata Vernelli che penso che a questo punto direi che infatti si commentano da soli ci sono serial killer che ballano nel cemento con bambole ricucire senza occhi non credo però ripeto non te la prendersi stasera tarremo spunto da te per il prossimo romanzo su un serial killer che rompeva le palle durante una trasmissione su Twitch ma probabilmente anche straniero perché l'italiano è abbastanza anche Google Translate penso che si rifiuterebbe di scrivere delle simili stupidaggini insomma e vabbè comunque meritata Vernelli guarda credimi non è il canale per te non te la prendere cioè se te ne vai ti assicuro che noi insomma la gestiremo con grande serenità quindi non ti preoccupare se devi lasciarci è di meglio da fare magari ricucire qualche bambola del cemento noi tranquilli che siamo qua ma non ci mancherà e bene quindi sei triste eh vabbè sei triste però ci sono altri posti dove chiedere aiuto meritata Vernelli capisco che sei triste ma la tristezza non è una giustificazione plausibile dai su cerca di dedicare la tua energia altrove allora eh dottor De Luca se non fosse sopravvissuta da una terra con la Santi Izzo sarebbe rimasto comunque un kill seriale beh sicuramente sì ragazzi Izzo sicuramente sì sì anche perché poi ha compiuto dopo quando è uscito a distanza di 30 anni altri due omicidi adesso si è compito anche l'omicidio di Rossella Corazzin sostenendo di averla uccisa nella villa sul Trasimeno di Narducci e dicendo che lui ha partecipato a questo omicidio di questa ragazza scomparsa e mai ritrovata e addirittura in questa audizione della della precedente insomma commissione parlamentare che stava approfondendo alcuni casi attribuibili al mosso di Firenze lui è stato sentito e si è attribuito anche tra gli altri l'omicidio di questa di questa ragazza mai ritrovata sostenendo che sia stata uccisa durante un rituale esoterico nella villa di Narducci poco prima insomma che che Narducci perdesse la vita però anche questo insomma Angelo Izzo che non è esattamente l'emblema della della fidabilità insomma sotto questo aspetto Angelo Izzo è sicuramente un serial killer io conobbi anche la giornalista che lo sposò Donatella Papi che cercò di convincermi in tutti i modi che Angelo Izzo era un bonaccione che nessuno aveva capito la sua vera natura che era molto molto buono e lì poi ci sarebbe da aprire tutto il fenomeno delle groupies cioè delle donne che si innamorano dei serial killer che è una fenomenologia che negli Stati Uniti ha raggiunto livelli assurdi nel senso che i serial killer più famosi hanno dei fan club proprio come fossero dei cantanti rock c'è una paratelia che si chiama ibristofilia tipicamente diffusa tra le donne che comporta proprio per chi ne è affetto l'eccitarsi all'idea che il proprio partner sessuale abbia commesso atti molto gravi violenti aggressivi o abominevoli quindi questo tipo di soggetti si eccita proprio all'idea di stare con qualcuno che ha commesso già fatti molto gravi o è sospettato di averli commessi lo stesso Bandi si sposò in carcere ed ebbe persino una figlia mentre era Charles Manson prima di morire si è sposato una 26enne insomma sono vari sono vari casi fondamentalmente peraltro Manson è un altro caso molto interessante perché di fatto lui venne ritenuto in qualche modo il mandante della strage di Bel Air ma quella sera non ci fu lui non era lì fondamentalmente c'erano altri suoi adepti ma lui non era presente insomma si può recuperare un serial killer o curare un serial killer questa è la domanda a Ruben psicologo più che criminologo questa è la domanda da un milione di dollari in realtà la risposta per quanto mi riguarda è molto secca ed è no nel senso che esistono diversi casi che ho potuto studiare dove e per esempio ecco Angelo Izzo è uno di questi lui è stato 30 anni in carcere ha avuto la semilibertà io ho letto la relazione dello psicologo di campo basso che è entusiasta dei risultati ottenuti con la terapia in realtà non è cambiato di una virgola quello che aveva in testa le sue fantasie perché il problema del trattamento in carcere è che agisce solo sul qui ed ora cioè un soggetto i serial killer sono comunque ecco dicevamo non sono geni ma hanno comunque un'intelligenza pratica e sanno che per uscire quando vanno a fare i colloqui devono comunque manifestare un pentimento ma è un pentimento cognitivo è un pentimento di facciata che non si basa è una recita sono la maggior parte manipolatori cioè hanno una personalità mimetica se serve quel tipo di condizione la recitano senza problemi insomma ma non c'è nessun tipo di correlato davvero legato dal punto di vista emotivo non c'è una trasformazione serve che ti dico questo perché con questo mi fai una valutazione favorevole posso mettere il naso fuori dal carcere io ti posso dire la qualunque tanto comunque ti sto ingannando quindi cioè non è che purtroppo il problema è la preparazione dell'operatore che deve conoscere questo tipo di personalità e non farsi trarre in inganno perché che Angelo Izzo potesse realisticamente essere dipinto come dipinto in quella relazione considerando il tipo di background che aveva il tipo di personalità che lo caratterizzava e il tipo di crimini che aveva già commesso obiettivamente insomma pensare di recuperare un soggetto con queste caratteristiche personologiche in carcere mi diventa veramente inverosimile che qualcuno lo potesse credere davvero eppure è successo e questo è costato la vita a due donne a una madre e a una figlia ecco citerei un caso emblematico anche per definire questo concetto dell'irrecuperabilità c'è un caso di un pedofilo assassino inglese Sidney Cook che è stato arrestato per lo stupro e l'omicidio di una bambina dopo 30 anni di carcere ha accettato volontariamente di sottoporsi a castrazione chimica proprio per poter uscire in semilibertà è stato sottoposto a castrazione chimica è uscito dopo una settimana ha rapito un'altra bambina non potendola più violentare con l'organo genitale che non funzionava ha usato un manico di scopa e poi l'ha uccisa questo caso è particolare per eccellenza ce l'abbiamo tra le orecchie e non tra le gambe la castrazione chimica impedisce la ricaptazione del testosterone e quindi va a influenzare negativamente il riempimento dei corpi cavernosi per essere chiari il soggetto non ha un'erezione comportando peraltro tutta una serie di effetti collaterali di non poco conto ma la parte pulsionale cioè la fantasia che è quella che poi fa partire il ciclo sessuale quindi dà il via a tutta una serie di condotte non è qualcosa che purtroppo si può spegnere in più nei parafilici gravi c'è i soggetti che hanno chiaramente dei disturbi della sfera sessuale la componente diciamo della fantasia del ciclo sessuale il desiderio è ancora più difficile da spegnere proprio perché è organizzato intorno a temi coartati che sono rigidamente organizzati intorno a determinati target o determinate attività o determinati soggetti o oggetti che sostituiscono diciamo un rapporto sessuale normale con un soggetto adulto consenziente fenotipicamente normale chiaramente in grado di prestare consenso attivo e umano naturalmente quindi cioè fuori da quel tipo di perimetro purtroppo chi ha interessi sessuali diversi da questi che sono stati appena citati tende ad avere un interesse sessuale che si radica intorno a un tema alternativo alla sessualità normale ed è ancora più difficile da gestire ecco perché la castrazione non mi stupisce quello che mi dice anzi è possibile che dopo l'estrazione chimica il soggetto sia talmente frustrato da diventare addirittura paradossalmente più aggressivo quindi se prima stuprava verosimilmente arriva a uccidere sì sì no poi appunto ha usato un sostitutivo del pene per appunto portare a compimento la fantasia perché appunto la fantasia l'unico modo per curare e recuperare un serial killer come un criminale sessuale sarebbe una ristrutturazione cognitiva profonda che però di fatto è impossibile ed è megalomanico anche solo pensarlo perché è già difficile comporterebbe una reale alleanza del soggetto che ha nessuna intenzione di mettere in discussione questo aspetto di sé certo quindi è difficile anche creare un terreno su cui costruire un'alleanza terapeutica per fare una ristrutturazione di quella portata il soggetto deve avere delle risorse di suo e soprattutto deve ammettere pienamente la propria condotta e riconoscerne il disvalore sono già dei requisiti abbastanza impegnativi da raggiungere per poter e poi se uno è uno psicopatico e quindi non ha l'empatia e vede gli altri come oggetti è ancora più impossibile perché non non gli fai provare un senso di colpo o di rimorso semplicemente perché gli altri le vittime sono oggetti e non sono persone esatto e purtroppo quel tipo di lettura empatica degli altri o si forma nei primi 3-4 anni di vita perché il soggetto ha fatto un'esperienza tale per cui si è sentito amato e accolto e quindi ha imparato cosa vuol dire sentirsi in questo modo ed è in grado di garantire la medesima condizione anche agli altri esseri umani ma questo tipo di soggetti entra in una condizione pseudo empatica cioè è la sofferenza ad attivarli anziché noi se vediamo qualcuno soffrire magari per quello che stiamo facendo facciamo un passo indietro una sorta di freno a mano la sofferenza altrui ci blocca perché ci arriva la sentiamo anche noi e quindi è qualcosa che ci protegge dalla prosecuzione di condotte pericolose o aggressive verso gli altri perché percepiamo il dolore e la sofferenza come una sorta di limite da non varcare questo tipo di soggetti invece legge la sofferenza degli altri come una sorta di benzina di accelerante di strumento per recitarsi ancora di più quindi lavorare su questo tipo di contesto purtroppo è molto complesso insomma questo è l'unico modo per garantire che non colpiscono più sappiamo bene qual è è il carcere esatto non c'è un'altra strada il serial killer è sempre un sociopatico? altra domanda ci abbiamo alla conclusione eh ragazzi? beh no anche qui bisogna stare attenti ai termini in realtà di solito ecco sociopatico e psicopatico spesso vengono usati come sinonimi in realtà non è così molto spesso il serial killer è uno psicopatico quindi è un soggetto eh proprio completamente privo eh di qualsiasi capacità empatica e come dicevo prima considera gli altri come eh degli oggetti eh la diagnosi di disturbo antisociale di personalità o psicopatia è quella più comune nei serial killer e questi sono dati per esempio eh della Germania che mi sono stati forniti proprio da Stefan Harbort però esistono anche altre diagnosi soprattutto il borderline e il narcisistico poi bisogna fare attenzione perché per esempio invece il sociopatico è più frequente nei soggetti che fanno parte di organizzazioni criminali perché il sociopatico in realtà è capace di un'empatia parziale ma è capace di empatia solo all'interno del proprio gruppo di riferimento quindi l'esempio classico del mafioso che magari si commuove con la mamma o se va a assistere all'opera lirica o per gli affiliati ed è capace però di ordinare gli omicidi più efferati all'esterno del proprio gruppo quindi la maggior parte dei serial killer sono psicopatici quindi o disturbo antisociale di personalità non sociopatici che invece è una diagnosi più frequente nei soggetti che fanno parte di criminalità organizzata probabilmente questo di Roma è molto probabile che sia un sociopatico sì con problemi psichiali lui ha avuto una serie di recovery in psichiatria anche di tipo giudiziario e gli è stato diagnosticato un disturbo antisociale di personalità con alterazioni di natura diciamo più legate a aspetti psichiatrici diciamo bipolari quindi insomma questo è un po' l'elemento quindi l'aspetto del disturbo di personalità è addirittura potenziato da anche problematiche di natura diciamo neurobiologica molto serie danni ci chiede secondo voi questa attrazione per la sofferenza della vittima serve esorcizzare i traumi del passato nei serial killer ma probabilmente c'è una chiave di lettura che ribalta un po' una condizione in alcuni di loro insomma una buona parte di loro almeno quelli di tipo che agiscono sulla scorta di una spinta sessuale spesso c'è un'infanzia in cui ci sono state delle esperienze malevole non necessariamente traumatiche il BTK per esempio diceva che lui aveva capito il suo interesse sessuale abnorme quando aveva visto la nonna lui aveva otto anni aveva visto la nonna uccidere le galline e si era eccitato quindi aveva fatto questa esperienza non necessariamente traumatica in sé per sé ripeto anche perché vedere un adulto che uccide gli animali certo non è un'esperienza meravigliosa per un bambino ma la risposta che lui ebbe in quell'occasione era una risposta chiaramente abnorme che già tracciava il solco in una personalità evidentemente già deficitaria perché trovare eccitante un animale che viene ucciso è chiaro che già di per sé ti dice che l'empatia questo bambino a otto anni non sapeva manco da che parte cominciava quindi come vedi c'è sempre qualcosa che poi segna il percorso ma è uno sviluppo fatto di tante componenti che è difficile tracciare in maniera precisa non è necessariamente sofferenza o trauma quello che crea questi predatori però probabilmente qualche esperienza precoce che miscela pericolosamente l'eccitazione sessuale con l'esposizione a comportamenti violente questo è possibile diciamo che alcune persone concordano su questo aspetto e diciamo che per rendere chiaro il concetto e mi rifaccio per esempio all'esempio appunto di Teodor Kazinski Teodor Kazinski una bomber aveva un fratello Davide Kazinski che ha avuto una vita assolutamente normale anzi è quello che l'ha fatta arrestare sposato non ha mai fatto un atto di violenza questo dove voglio arrivare voglio arrivare che i traumi da soli non giustificano la creazione del serial killer perché ci sono tantissimi bambini che non diventano serial killer e che hanno lo stesso tipo di traumi un concetto fondamentale il concetto in psicologia si chiama di resilienza cioè ognuno di noi detto in parole molto povere ognuno di noi nasce con una capacità di sopportazione una capacità innata di sopportazione di elaborazione dei traumi e dei lutti il serial killer cioè colui che diventa serial killer generalmente è un soggetto molto sensibile è l'opposto del mostro come lo definiamo noi per difenderci e per allontanarlo da noi è un bambino molto sensibile per cui quel trauma che magari altri nove bambini riescono a elaborare magari con delle difficoltà e con delle turbe comportamentali ma senza diventare dei predatori quel bambino lì che ha una capacità di resilienza molto scarsa la ingloba come diceva Roberta e poi diventa un predatore un serial killer perché se no non riusciremo a capire perché la domanda che mi fanno sempre a tutte le lezioni come si diventa serial killer c'è un profilo unico la risposta è no perché noi abbiamo bambini che vengono vittimizzati abusati traumatizzati e magari convertono in bene quelle violenze che hanno subito oppure convertono con altri problemi comportamentali che può essere la tossicodipendenza altre cose ma non diventano serial killer certo dipende da questa capacità di autoriparazione che ognuno di noi ha alcuni ce l'hanno più sviluppata altri evidentemente meno e se un trauma non viene elaborato in maniera corretta cioè non viene in qualche modo smaltito a livello psichico continua a riverberare nella parte più inaccessibile della mente finché continua a crescere finché da qualche parte quell'energia deve sfogare quell'angoscia deve sfogare quindi è facile che entri a far parte degli aspetti più profondi la pulsione sessuale è sicuramente tra questi quindi è facile che contamini quel tipo di mondo se ho bisogno se mi sono sentito profondamente impotente se ho avuto modo di sperimentare angoscia paura in relazione a qualcosa che ho subito o che ho visto subire a qualcuno a cui tenevo è chiaro che io quel tipo di esperienza se non la elaboro in maniera funzionale da qualche parte va in qualche modo a generare delle pericolose radici e poi può creare tutta una serie di meccanismi di equazione a ripetere che sono spesso alla base dell'operato di questi soggetti questo è un po' il punto ok sì la resilienza è sicuramente una delle capacità che è bene sviluppare ed è bene mantenere in ottima salute perché serve in continuazione nell'arco della vita di un soggetto insomma ok sì meritata Vernelli credo anch'io che tu sia un caso disperato sì sì la diagnosi è questa stasera ok quindi non siamo noi quelli che possono darti una mano ripeto l'invito è rivolgerti altrove perché sicuramente credo che tu possa trovare maggiore diciamo maggiore attenzione per quanto riguarda e concludiamo il caso romano cosa ne pensi alla luce di quello che ci siamo raccontati fin qui ma diciamo che questo è un soggetto ancora da capire bene nel senso che sicuramente ha delle problematiche di tipo sessuale di autostima è un soggetto da quello che mi sono potuto fare come idea è un soggetto abituato comunque a sentirsi accetto di attenzione a sentirsi onnipotente nell'ambito dell'organizzazione per cui lavorava nel 2006 è stato accusato per un tentato stupro alcuni si vocifera ma non è confermato alcuni poliziotti se lo ricordano che con un fucile a piombini che sparava addosso a prostitute a prima valle quindi diciamo tendenze aggressive verso le donne in generale le prostitute in particolare le ha già manifestate per cui potrebbe essere un esempio di serial killer nascosto cioè di soggetto che comunque aveva delle pulsioni sessuali perverse tratti psicopatici che ha contenuto fino a un certo punto in un'organizzazione criminale ma che sono venute fuori chiaramente facilitato anche dall'uso di sostanze stupefacenti che facilita il passaggio all'atto di qualcosa che uno ha già visto perché assumeva anche psicofarmaci e anche psicofarmaci a consumare cocaina quindi purtroppo è chiaro che anche questo aspetto non dico che abbia generato la situazione ma indubbiamente ne ha diciamo potenziato gli effetti negativi c'è chi chiede se riteniamo che sia collegato a tutti e tre ai delitti io credo proprio di sì anche se lui dice di ricordarsi solo quelli delle due cinesi lui dice di ricordare solo che c'era tanto sangue che lui tamponava la ferita di una delle due cinesi addirittura dicendo che c'era un'altra persona nella stanza però ragazzi attenzione parliamo comunque di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo antisociale che è un manipolatore non perdiamolo mai di vista e io aggiungerei aggiungerei un particolare aggiungerei un particolare che è funzionale a un'eventuale strategia difensiva di infermità dire di ricordarsi solo un episodio perché se lui ammettesse di aver di ricordarsi tutti e due gli episodi salterebbe immediatamente il discorso di infermità mentale perché allora tu hai fatto un episodio hai tratto piacere e quindi immediatamente ne fai un altro per cui è funzionale che lui dica io mi ricordo solo delle due cinesi siccome lui a quanto si apprende alla prostituta cubana ha detto ho ucciso tre donne ecco e alla madre e alla sorella ha chiesto aiuto perché era nei guai prima che lo trovasse la polizia ciò significa lui era perfettamente consapevole di quello che è accaduto peraltro la signora colombiana non è un trans il trans è il fratello della signora colombiana la signora Marta è una donna non è un transessuale si prostituiva insieme al fratello che è transessuale ma lei è diciamo è una donna diciamo non è non è perché è stata dipinta come una trans colombiana ho visto che qualcuno di voi lo scriveva no non è una trans è una donna diciamo non è un transessuale ok è perché è uscito erroneamente il Corriere della Sera perché l'hanno associata al fratello che è in trans e perché poi si prostituivano insieme anche sul sito sono insieme nel sito diciamo dove si propongono però in realtà la vittima è una donna ok quindi questo è anche un target se vogliamo anche un po' più anche se sono di etnia diversa è chiaro che lui era più attratto da donne non da transessuali sono categorie abbastanza alternative è difficile che un soggetto che è attratto dai transessuali sia attratto da prostitute donne perché sono due target abbastanza diversi che hanno anche comportano anche tutta una serie di scenari abbastanza diversi quindi è un soggetto che indubbiamente ha agito sulla scorta di un aspetto compulsivo senza neanche preoccuparsi di coprire le sue tracce tant'è che insomma non credo che avranno problemi quelli della scientifica a trovare elementi che colleghino i tre delitti ma indubbiamente è un soggetto che ha una base personologica profondamente disfunzionale che già si era manifestata nell'arco della sua vita complice all'abuso di sostanze e di psicofarmaci capite bene che con una personalità di quel tipo con una personalità così violenta aggressiva e distruttiva metteteci in mezzo anche la componente diciamo deviante di tipo sessuale e la miscela è davvero esplosiva sì io sono completamente d'accordo con l'ergastolo di Benno assolutamente sì e andiamo a concludere l'ho sempre affermato nel mio modo di vedere non c'era nessun elemento che potesse far realisticamente ipotizzare una semi-infermità e quindi mi fa molto piacere che la corte assise di Bolzano abbia accolto pienamente tutte le richieste della procura che gli ha contestato anche la prevedizione bene allora ragazzi direi che per questa sera insomma è stata una puntata ricchissima di contenuti mi auguro vi sia vi sia piaciuta ringraziamo Ruben e ripasciamo vedere ancora una volta il libro che naturalmente io ringrazio te Roberta diremmi quel volto che sono da acquistare perché è veramente un libro eccezionale per chi è interessato come voi a questo tema non può assolutamente non averlo con sé quindi a questo punto vi diamo appuntamento con Giovanni Langella e Laura Marinaro a giovedì giovedì se ci riusciamo però ripeto ci devo provare perché non l'ho ancora mai fatto beh non farà un percorso psichiatrico dentro al carcere ma sicuramente farà un percorso dentro al carcere riabilitativo di tipo socioeducativo psichiatrico sì c'è lo psichiatra in carcere che sicuramente potrà garantirgli diciamo un suo percorso indubbiamente certamente sì anche se le personalità di quel tipo sono difficilmente modificabili avendo un disturbo narcisistico molto grave con tratti antisociali anche lui dicevamo giovedì proviamo a fare una cosa però non vi garantisco il risultato perché è la prima volta che proviamo a fare questo io ho una conferenza a Desenzano dedicata al contrasto alla violenza di genere e cercheremo di di organizzare in maniera tale da trasmetterla in diretta insieme a voi quindi insomma ci proviamo speriamo che il risultato sia sia accettabile e comunque ci saranno Giovanni e Laura a darci una mano insomma a gestire anche poi eventualmente le vostre domande quindi proviamo a fare questo esperimento speriamo che sia un esperimento che abbia insomma sensato per il resto vi saluto saluto anch'io grazie alla settimana insomma giovedì ci proviamo diversamente alla settimana prossima ciao ragazzi grazie mille Ruben è stata veramente una sera grazie a te Roberta interessantissima e mi raccomando ragazzi acquistate il testo perché è davvero imperdibile buona serata grazie grazie a tutti